Benvenuti a Tocco da Casauria, io che vi parlo sono Roberto Terzini e insieme a mio fratello Domenico abbiamo preso da qualche anno l'azienda agricola di famiglia e oggi siete proprio qui all'interno della nostra nuova azienda anche perché i lavori proseguono, stiamo cercando di portare avanti un progetto all'insegna della qualità e quindi oggi vi volevamo far toccare con mano quelli che sono i lavori in corso, in opera in questo momento anche perché fra poco siamo proprio vicini a quello che è uno degli eventi più importanti dell'anno che va un po' a consacrare quelle che sono le nuove annate, i nuovi vini e ci appresteremo a arrivare al Vinitaly e quindi è questa occasione importante dove ci rincontreremo e nonostante i problemi che abbiamo avuto negli ultimi anni abbiamo comunque voluto investire, essere presenti e rincontrarci con tutti i nostri amici, clienti che ovviamente abbiamo sia in Italia che all'estero quindi questa è un'occasione per noi importante per ricordarvi che saremo presenti padiglione 12, quello dell'Abruzzo, nelle coordinate C1D1 quindi se volete venire a trovarci per noi sarà un vero piacere degustare le nuove annate e stare qualche minuto insieme e scambiarci due parole Siamo all'interno della nostra azienda, quindi qua stiamo facendo tutti i lavori ma ovviamente la produzione è già tutta attiva quindi sono già tre vendemme che stiamo portando avanti all'interno di questa struttura che pian pianino stiamo finendo ovviamente la tecnologia per noi è fondamentale perché con la tecnologia si fanno i vini migliori perché si controllano in ogni fase della loro preparazione e quindi anche qui sarà per noi un piacere ospitarvi quanto prima perché così vi possiamo anche far assaggiare qualche prodotto direttamente dalla botte che secondo me è anche bello e interessante capire poi come si evolve in bottiglia e come va a finire nel bicchiere Grazie a tutti Qua ci troviamo vicino a quelle che sono le botti di tonnò che per noi sono un elemento importante in quanto vanno ad affinare un montepulciano d'abruzzo che dopo un primo passaggio in acciaio va a completare la sua lavorazione in queste botti fantastici che abbiamo recuperato si fanno sei mesi in tonnò e poi vengono imbottigliate insomma è un prodotto assolutamente da assaggiare quello del 2021 che abbiamo recentemente imbottigliato e che assaggeremo al Vini Italy è veramente un prodotto tutto da scoprire Un altro importante risultato che abbiamo avuto in queste terre è stato quello proprio di conquistare dopo tanti anni di sacrificio un altro importante riconoscendo quello di raggiungere una DOCG quindi siamo riusciti in questa zona insieme a un consorzio di varie aziende a raggiungere questa nuova forma di vino esaltato all'ennesima potenza perché parliamo di una DOCG quindi una DOC di origine controllata e garantita e questa è una prima botte che adesso sta facendo ancora affinamento in acciaio che poi successivamente andrà in barricchia e verrà imbottigliata con questa nuova denominazione Terre di Casau Grazie a tutti i nostri spettatori in ultima istanza qua siamo ancora nelle fasi degli ultimi lavori, ultimi preparativi però questo sarà il salone dove vi potremmo accogliere e magari deliziare con i nostri vini accompagnati a tutti i nostri prodotti tipici della zona che sono veramente eccezionali quindi non vedo l'ora di vedervi